Buongiorno a tutti gli elettori e gli elettrici del prossimo presidente e governo federale. Sono Vittorio Garrone e mi candido come consigliere indipendente. Sono notariamente impegnato da oltre 30 anni in questo settore, sono un allevatore di lungo corso, sono proprietario di una scuderia di giovani cavalli e giovani cavalieri. L'obiettivo è quello di essere indipendente come consigliere per una ragione principale, che è quella di consentire all'assemblea elettiva di fare le proprie scelte democraticamente in considerazione anche della lista posta dal presidente vincente, ma di poter scegliere i membri del Consiglio secondo anche requisiti di qualità, esperienza, rappresentativi, gli obiettivi di rinnovamento e crescita della nostra federazione. Quali sono i requisiti fondamentali che ritengano debbano appartenere al Consiglio federale e a ciascuno consigliere? Etica, trasparenza, meritocrazia, rispetto dei valori, tutela del cavallo, considerazione dell'organizzazione e obiettivi chiari e imprescindibili. Attraverso quali punti principali? Il primo punto è quello naturalmente di porre il cavallo e tesserati al centro degli interessi e dei servizi della nostra federazione. Il secondo punto è quello di avere e mantenere un bilancio in equilibrio e che consenta di allocare risorse e investimenti per la crescita qualitativa del nostro settore e allargare la base. Al terzo punto avere una visione e una strategia chiara di lungo periodo. Al quarto punto un'organizzazione efficiente, un'organizzazione trasparente e soprattutto con obiettivi che ci pongano tra le cinque migliori federazioni del mondo. Al quinto punto, estremamente importante anche questo continuare ad investire e valorizzare giovani cavalli, giovani atleti e tanti giovani appassionati. Grazie per il tempo che mi avete dedicato ad ascoltarmi. Spero di poter esprimere queste considerazioni e il mio impegno nel prossimo Consiglio federale.